La parola non puoi parlare La parola non puoi parlare La parola non puoi parlare Siamo a Pollica nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Il mare e la costa che state ammirando sono da secoli punto di incontro di civiltà e culture E questo è l'istituto comprensivo Giovanni Patroni Da sempre un laboratorio di progetti e di idee sul Mediterraneo e sull'Europa Siamo in compagnia della dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Giovanni Patroni La dottoressa Maria Luisa Gatta Preside ci presenti un po' questo istituto innanzitutto E da dove vengono tutti questi ragazzi che frequentano la scuola? L'istituto comprensivo Giovanni Patroni di Pollica È un istituto che comprende ragazzi di Pioppi, di Acciaroli, di San Mauro Cilento Per cui i plessi sono appunto Acciaroli, San Mauro Cilento La sede centrale è questa di Pollica È un istituto in verità piccolo Ma ci teniamo molto ai ragazzi E per questo cerchiamo di organizzare delle attività Per aiutarli a crescere E soprattutto per metterli in condizione di orientarsi per le scelte future Per aiutarli a crescere Siamo in compagnia della dottoressa Clara Schiavone Che in collaborazione con la sovraintendenza dei beni culturali Ha realizzato un interessante progetto Sull'insediamento dei monaci italo-greci all'interno del Cilento Dottoressa ce lo illustri un po' Il progetto si intitola Sulle tracce dei monaci italo-greci nel Cilento Attraverso il culto dei Santi Orientali Perché scandagliando la nostra realtà storica Soprattutto in riferimento agli insediamenti monastici italo-greci Abbiamo voluto seguire le tante tracce Che i nostri monaci hanno lasciato sul territorio Soprattutto in riferimento alla toponomastica E siamo andati oltre Abbiamo voluto capire quanti e quali paesi Ancora oggi mantenevano e celebravano Questi Santi di origine orientale Ci è piaciuta l'idea così di realizzare una mappa Che noi abbiamo definito ageografica Sulla quale abbiamo individuato tutti i paesi Mediante dei pallini colorati Dove questi Santi ancora Di questi Santi ancora si manteneva vivo il culto Siamo in compagnia della Dottoressa Adelina Santonicola Referente del programma alla valutazione nazionale Quali gli obiettivi che ha sviluppato la scuola All'interno di questo programma? La nostra scuola è inserita nel programma operativo nazionale Come lei ha detto Per l'annualità 2007-2013 Competenze per lo sviluppo Sono anni che il nostro istituto è destinatario dei fondi europei E quindi noi stiamo attuando dei moduli formativi Per il potenziamento e il recupero Di alcune competenze fondamentali per gli studenti Abbiamo attuato due moduli Per il recupero e potenziamento della lingua italiana Attraverso la drammatizzazione Palcoscenico 1 destinato agli alunni della scuola primaria E poi Teatrit 1 destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado Sempre attraverso tecniche di drammatizzazione Poi abbiamo attuato due moduli di potenziamento della lingua inglese Con madrelingua E quindi attraverso anche il propedeutico alla certificazione Trinity Poiché l'istituto comprensivo di Pollica è centro Trinity Quindi da sempre votato all'acquisizione di competenze linguistiche Noi abbiamo avuto un'ottima rispondenza E quindi l'adesione è stata molto entusiastica Sia da parte degli studenti ma soprattutto dei genitori Infatti l'obiettivo F destinato per i genitori Ha visto l'impegno di 20 genitori Che hanno svolto un modulo di 60 ore E quindi hanno approfondito la comunicazione tra scuola e famiglia E quindi hanno avuto una maggiore consapevolezza Del ruolo dell'istituzione sul territorio E inoltre questi moduli Anche altri destinati all'ambiente Per sviluppare negli alunni una coscienza ambientalistica Sendo noi in un parco nazionale del Cilento È naturale che la scuola sia volta a questo E poi abbiamo svolto anche dei moduli Destinati alla scuola secondaria di primo grado Questo era destinato per l'ambiente E invece per migliorare le tecniche di relazione Abbiamo attuato per una buona convivenza Tra gli alunni della scuola primaria La dottoressa Maria Maffoncelli All'interno dell'istituto comprensivo Giovanni Patroni di Pollica È ambasciatrice e-twinning per la regione Campania Dottoressa, come viene sviluppato questo progetto Sull'interculturalità all'interno del vostro istituto comprensivo? Il nostro istituto comprensivo da tre anni A questa parte si è occupato di progetti europei Progetti che sono inclusi nel piano di programmazione Di lifelong learning dell'Agenzia Nazionale Il progetto e-twinning è un progetto diverso dal Comenius Per il semplice fatto che i gemellaggi Si svolgono solo per via elettronica Attraverso una piattaforma dedicata E uno spazio che si chiama Twin Space Per quanto riguarda invece il progetto Comenius Che da anni è uno dei fiori agli occhiello Di questo istituto comprensivo Come si è sviluppato? E quest'anno e precedentemente? Quest'anno noi abbiamo svolto soltanto le attività Conclusive del progetto Che è durato tre anni Ed è stato bellissimo Un'esperienza veramente meravigliosa Un gemellaggio fatto con l'istituto Il secondo ginnasio di Koscialin È una scuola polacca E la scuola primaria di Birerallik Nel cuore della Turchia La scuola di Adyaman L'istituto ha svolto un progetto Sui antichi costumi Sulle antiche danze locali E quindi cilentane Ed è stata un'esperienza veramente costruttiva Per la coscienza europea Dei nuovi cittadini europei Ringraziamo la dottoressa Maria Maffongelli E invitiamo tutti voi a guardare E a visitare l'istituto comprensivo di Pollica Su internet e sulla piattaforma appena realizzata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.